Si passa innanzitutto attraverso la riappropriazione da parte dello Stato della sua funzione legittima di protezione della maggioranza dei cittadini e non dell'elite. Prima cosa, ripossedere moneta sovrana, spendere a deficit per i capitoli che ho citato in precedenza e non ripeto. La seconda cosa è naturalmente nel momento in cui tu hai uno Stato che non è più ricattabile dai mercati, perché la riappropriazione della moneta sovrana ti rende inattaccabile dai mercati che oggi attaccano l'Italia, i paesi come l'Italia, semplicemente perché non avendo più una moneta propria noi dobbiamo chiedere in prestito ai privati, alle grandi istituzioni finanziarie private, assicurazioni, banche, fondi privati di speculatori, hedge funds, eccetera. Nel momento in cui usciamo da questo sistema e ci ripropriamo nel momento sovrano non siamo più ricattabili dai mercati. Non essere più ricattabili dai mercati significa avere la tranquillità di guardare in faccia questi trattati europei e dire chi li ha scritti, per conto di chi, su indicazioni di chi, sono trattati che tutelano la democrazia in Europa? No. C'è un capitolo sociale? No. C'è un capitolo di tutela del lavoro? No. Che capitoli ci sono? Andiamoli a leggere. Tutti i capitoli di ispirazione neoliberista? Tutti, dal primo all'ultimo. E allora l'Italia con moneta sovrana e modern money theory come politica economica e sociale può permettersi tranquillamente, senza il terrore del ricatto dei mercati, di chiedere e pretendere la revisione di questi trattati. Oggi è impossibile, perché se chiedi la revisione dei trattati che sono di stampo neoliberista, i mercati neoliberisti ti ammazzano, ti dicono tu non puoi chiedere niente perché da domani smettiamo di darti i soldi, oppure ti facciamo pagare le tasse di interesse che sono impossibili e sostenibili e tu non puoi fare assolutamente niente. Cioè, parliamoci chiaro, non abbiamo più una sovranità politica, non esiste più, il Parlamento italiano non ha un senso, il Senato italiano non ha più un senso, perché non possono più fare niente di autonomo, assolutamente niente, potranno forse legiferare sulle norme di igiene dei bar, questo forse ancora gli è concesso, ma politica sovrana, sappiamo adesso che i bilanci dello Stato italiano devono essere sottomessi alla Commissione europea prima di essere sottomessi al Parlamento. Siamo arrivati addirittura a questo Stato di esautorazione. Allora, voglio dire, è un Parlamento che non può più fare niente perché nel momento in cui alza la cresta per qualsiasi interesse pubblico dei cittadini, i mercati dicono ferma, non ti diamo più i soldi. Cosa fai? Non può più fare niente. Una nazione in queste condizioni non può più fare nulla di sovrano, non abbiamo più la democrazia. Non era Berlusconi il pericolo per la democrazia, non erano i processi di mafia, Fasulli il pericolo per la democrazia, e era questo il grande pericolo della democrazia. La mafia non riuscirà mai a fare neppure un centesimo di quello che la mafia finanziaria è riuscita a fare in tutta Europa. Parlo solo di 33 milioni di disoccupati, solo per dare un dato, e poi tutti i resti trattati, eccetera. Si spedisce il proprio nome e cognome secco con data di nascita, alla mail paolo.barnard.yahoo.it paolo.barnard.yahoo.it. Io prendo il nome, lo iscrivo nella lista dei partecipanti, nel frattempo ho aperto un conto corrente bancario dove versare la quota di iscrizione che sono 40 euro, anche questo conto corrente pubblicato nel mio sito, chi vuole partecipare deve versare questa quota, preciso subito, a scanso di critiche, che ho tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di avere un mezzo di finanziamento di quote che non passasse per le banche, alla fine è stato impossibile, questo le belle anime, scusate senza offesa, ma devono capirlo perché mi stanno tempestando di mail dicendo allora tu che critichi questo sistema, poi usi le banche, non era possibile raccogliere i denari in nessun altro modo, posta pay a un conto che ha 3000 euro di massimale, dopodiché te lo chiudono, i bollettini diventano un delirio organizzativo che non finisce più e poi devi comunque prelevare, mettere in banca e fare i pagamenti, per cui alla fine dalle banche ci devi passare, va bene, passaremo dalle banche, questo è il modo di iscriversi e sul mio sito ci sarà, appena abbiamo la cifra necessaria per dire agli americani ok si parte, sul mio sito ci saranno tutte le date, ci sarà luogo, ci saranno tutti gli estremi della partecipazione. Poi per la trasparenza, voglio dire, servono molti soldi per organizzare questa cosa, sono 5 economisti che vengono dall'America, uno viene da Parigi, ci sono viaggi, voli, trasporti, naturalmente qualcuno viene col proprio compagno, quindi non possiamo negarglielo, vengono gratuitamente, sono economisti di statura internazionale, vengono gratuitamente per l'Italia, quindi non si fanno pagare parcelle, però comunque le spese ci sono, il centro conferenza deve essere enorme, i traduttori devono essere bravissimi, professionisti di massimo livello, perché sbagliare una traduzione qui vuol dire rovinare tutto il convegno, ci sono tante altre spese, si stima che una cosa del genere possa venire a costare di spese pure dai 15 ai 20 mila Euro, paganti dovranno essere come minimo 500 persone, il conto corrente in cui si versa la quota dei 40 Euro è di dominio pubblico, verranno pubblicati tutti gli estratti conto, tutte le entrate e le uscite non sarà negato nulla alla trasparenza, quindi non ci saranno 50 centesimi spese per un caffè che non abbia a che fare con l'organizzazione, questo lo dico per la trasparenza e per dare un'idea del tipo di cifra di cui abbiamo bisogno, siamo già a oltre 900 iscritti, paganti per adesso vedremo e il secondo giorno di pagamenti oggi è controllato, siamo sui 3.000 Euro, quindi speriamo che nei prossimi 10-15 giorni si riesca ad arrivare alla cifra necessaria. Certo, io ho scritto questo saggio che si chiama Il più grande crimine 2011, Google si trovano 2.000 versioni, gratuito ovviamente, Il più grande crimine 2011, ci sono circa una novantina di pagine, c'è una parte storica che è fondamentale da capire per capire dove nasce il colpo di stato finanziario e come è stata uccisa la famosa gallina dalle uova d'oro, ma c'è una parte tecnica abbastanza lunga che se uno ha la pazienza di leggersela, cercare di capirla, io ho cercato di semplificare al massimo, di renderla proprio fruibile anche da un cittadino che non ha mai masticato l'economia, se uno legge quella sicuramente arriva al summit con il 90% del lavoro fatto e quindi il summit può servire per confermare, per avere ulteriori approfondimenti, per fare domande eccetera, questo sicuramente lì dentro c'è, e l'ho scritto in stretta sorveglianza da parte degli economisti americani di cui stiamo parlando, non l'ho scritto per mia interpretazione personale. Il creatore di questa modern money theory che come ho detto prima proviene da una lunghissima e autorevolissima tradizione economica e sono in particolare i professori del Center for Full Employment and Price Stability dell'Università del Missouri Kansas City, del Levy Institute Bard College di New York, che sono Stephanie Kelton, i professori Stephanie Kelton, Michael Hudson, Marshall Orbach, William Black che è poi lo specialista della criminosità delle grandi banche di Wall Street che è anche apparso nel film di Michael Moore Capitalism is a Love Story e da Parigi il professore Alain Parguet di grande valore perché è un anziano economista che fu consulente del governo di Mitterrand e conosce i trattati europei, conosce il corpo di Stato finanziario europeo come nessun altro.